Ciao amici della recensione, vi parlo oggi del topolino numero 3573 con questa bella cover chiara pulita di Di Polito dedicata agli eterni rivali, nonché il numero 1 di Paperone e il numero 2 Rockerdac anche se recentemente quest'ultimo sta acquisendo sempre più interesse anche nella vittoria perché abbiamo una prima storia in cui Rockerdac se non fosse per un colpo un po' basso dello zio avrebbe forse vinto in allegato per la terza volta consecutiva abbiamo anche l'ennesima parte dedicata al castello che per quanto piccola comunque il costo è sempre lo stesso, 11 euro, guardiamo il tutto meglio assieme e diamo un sguardo alla bella cover di Di Polito, ripeto bella ma semplice nell'idea anche se poi impossibile per me, comune mortale, nella realizzazione ma non la ricorderò, abbastanza dimenticabile questa è la parte del castello di cui soltanto voglio sottolineare il prezzo, 11 euro ma d'altronde questo è il marketing, l'iniziativa costa 60, anche 11 euro soltanto per questi due pezzi di plastica e per questo orribile Rockerdac, quegli occhi sono la cosa che più mi dà fastidio menzione d'onore invece per 7 euro meglio spesi, ovvero per la variante precedente a questo numero che oggi vi mostro perché ancora non l'avevo fatto, la numero 3572 con questo bellissimo capolavoro opera data di Paolo Mottura, qualcuno, chissà chi, potrebbe essere anche Mottura stesso o in futuro un privato, un appassionato, ha ad oggi l'originale, deve essere qualcosa di spaziale certo è che con questa carta ruvida, con questo effetto cartonato, un po' ammuffito, ingiallito dà tutto un altro aspetto, pure col topolino, con la fritta dorata però deve essere bellissimo anche originale, complimenti Mottura una delle migliori cover mai realizzate, non scomodo la mia preferita è quella di Cavazzano, topo maltese acquarellato, ma ci avvicina supera quella di Camboni, quella con le sovracoperte ma non supera la mia preferita ancora, ma veramente molto bella ma passiamo al numero di oggi, che a prendo troviamo il classico che ha retri da Paperopoli, in cui Paperino nomina ancora una volta l'intelligenza artificiale è qualcosa che io non voglio neanche pensare perché al momento non sono per nulla interessato è il progresso, ma secondo me è un progresso diverso rispetto a quello che c'è stato con la tecnologia, con i computer, con i device, i smartphone ho la paura, l'impressione, il timore che questa troppa tecnologia avanzata possa sottomettere l'uomo un domani speriamo di no ai posti di la due sentenza e per questo io sono un po' scettico e non provo alcun tipo neanche di ilarità nel leggere battute in merito all'intelligenza artificiale sono molto molto chiuso in questo argomento per il momento Alex Bertagli introduce l'albero, ricordandoci quello che uscirà le settimane successive, in particolare Area 15 e soprattutto in questa storia che viene citata come interessante Topolino e Pippo in Buonanotte e Poppi di Malgeri e Intini questa è la cover abbastanza abbozzata per quanto più che bella di Di Polito e poi partiamo con la prima, a mio parere, grande storia di Paperone, Rocardac e il bombetta business Badino e Intini menzione d'onore per Badino perché secondo me è uno dei sceneggiatori più sottovalutati un autore che non ricevette mai la giusta dose di popolarità probabilmente perché ha sempre realizzato storie o con Zika in passato ma di fatto poi si ricorda l'autrice e non l'autore oppure storie non così memorabili sarebbe interessante dare a Badino un'intera saga oppure affidargli un personaggio perché il modo in cui lessicalmente scrive è fantastico è adatto ad ogni età perché riesce a condire la narrazione in maniera scorrevole ma anche molto curata quindi complimenti a Badino tra l'altronde io lo ricordo molto bene in quel saggio che realizzò insieme ma dedicato a Carlo Candy che ricordo tanti anni fa quando lo presentò io ero a scuola me lo feci pure e firmare sia da Candy che poi da Badino e anche da Zika perché c'è quella di usazione sua quel saggio, quell'intervista con Candy con la gaccherata comunque già faceva al tempo notare a me neofte del fumetto quale era il modo di scrivere di Badino quindi solo complimenti all'autore in questo caso Intini mi piace anche se in questa storia non lo so, lo trovo un pochino più spento rispetto al solito io Intini lo preferisco con i paperi in generale sì ma più con i nipoti, Paperino, Paperoga, Archimede sono molto buffi i personaggi ma in questa storia ciò che ha spiccato per me è l'avventura per quanto è in realtà molto semplice perché è la classica rivalità sfida, disfida fra lo zio e Rockerdak ma in realtà Rockerdak ha una grande idea ovvero quello di sfruttare un suo elemento negativo ovvero quello di perdere costantemente in realtà penso sia Lasky se non vado errato a dargli questa idea in una cosa di fruttuoso quindi creare un negozio dedicato alle bombette di fatto ha pure la forma di essa il Derby Dinner bellissimo un'idea fantastica e al suo interno tra l'altro mettere anche lo slogan che tutti possono perdere inserendo e addolcendo questo slogan con dolci, salati, alimenti e via discorrendo una grandissima idea complimenti a Badino di fatto nell'immaginario collettivo complimenti a Rockerdak e lo ripeto per la terza volta lo zio per battere Rockerdak non è la prima volta utilizza un colpo basso che forse un tempo mai avrebbe utilizzato chissà che Rockerdak sta diventando più astuto anche se poi ovviamente per il personaggio che è non potrà mai alludere a diventare il numero uno perché quello non si scomoda però complimenti una bella storia per quanto la dimenticherò ammetto ricordino questo elemento del negozio a forma di bombetta le carte d'autore con questa serie di ristampa di tutti gli autori ad oggi stampati in carta quindi Celoni, Massantone, Mottura, Pisapia, Rota, Ziche chissà quale sarà il prossimo che secondo la tradizione dovrebbe uscire adesso in estate magari con il prossimo anteprima qualche stravaganza architettonica carina, interessante probabilmente fu questo anche l'ispirazione da cui Badino e Intini presero l'idea da questo Brown Derby a Los Angeles poi un donut gigante l'ultima frontiera il Ken Hotel il Miao Lezioni insomma che spettacolo il Big Duck molto molto bene la tazza e la teghiera questo è l'essere umano sa anche deliziare l'uomo stesso o se stesso di certe iniziative architettoniche Pip Holmes in salsa in rosso Anna Mottura questa storia ha pregi e difetti ma sono espressione personale quindi sicuramente io penso in generale questa storia sia piaciuta verrà anche ricordata ho l'impressione che vi sarà poi un cartonato perché sul finale come era prevedibile è proprio Topolino stesso o Pip insomma possiamo vederlo dalle taschele finali a dire che ci rivedremo questa è soltanto una delle tantissime storie di una lunga serie che ha raccontato anzi addirittura sul finale si parla di un certo professore con cui Pip che poi sarebbe Pip Holmes ebbe a che fare in passato quindi sicuramente l'idea editoriale se questa storia è davvero piaciuta come penso è quella di andare avanti per poi ristamparla in cartonato ormai la Sol fa i tanti anni che va avanti così e funziona a livello editoriale ma a me la storia non mi è piaciuta i disegni sono bellissimi anche se lo ripeto negli ultimi anni preferisco Celoni so che sono d'autori differenti però con questo stile è un po' sinuoso particolare quasi che si scioglie preferisco Fabio rispetto a Paolo poi come persone non le conosco ma come autori prettamente come disegno poi ricordiamo che Celoni da qualche anno si è riscoperto a un contore completo e quindi ha un punto in più ma la narrazione è un po' pesante onestamente feci fatica a digerire la prima parte perché è introduttiva perché è molto prolissa la seconda si va ovviamente a cercare la soluzione del caso che si trova ma in maniera completamente diversa dalla narrazione di Badino forse perché la prima storia mi è davvero così piaciuta in salsa Disney che leggere questa storia così forbita così complessa così di livello perché comunque c'è uno studio indifferente di Bruno Enna non mi sono riuscito a farmi coinvolgere pregiudizio anche precedente che ebbi della storia della settimana scorsa che non mi aveva conquistato e poi per me c'è un grande difetto a mio avviso di questa storia che da un lato per il collezionista per l'amante dell'autore del disegnatore è una grande cosa ma a livello generale non lo è secondo me nel mente della storia o meglio sul finale quando si scopre il colpevole di chi riuscì a impietrire questi uomini da dove arriva quest'anello quei vermicelli quella scritta insomma con le serie di indizi arriva poi a un colpevole che è quello che si scopre fin da subito in realtà e l'autore decide di raccontare il passato di questo personaggio inserendo queste vignette molto artisticamente parlando belle ma danatamente difficili da leggere in generale trovo che sia scorretto per il bambino ma anche per il ragazzo per l'adulto che non ha piacere a leggere in corsivo o comunque in stampatello minuscolo perché di fatto è quest'ultimo anche se sia un po' un mix di corsivo e stampatello su un topolino tra l'altro con dialoghi molto fitti che ti fanno passare la voglia quando la lessi io questa storia ovviamente già il colpevole era uscito fuori non ero così interessato di fatto alla lettura mi interessai i disegni e mi sono perso non mi interessai più andando avanti con la narrazione ma anche perché il topolino è promotore dell'inclusione sociale promuovendo proprio questo easy reading questo fonte ad alta leggibilità che serve soprattutto per quei bambini per quei ragazzi che hanno problemi di dislessia quindi alla lettura che sono DSA questo non aiuta per niente ho trovato difficoltà io figuratevi un bambino un ragazzo un adulto anche che ha un problema alla lettura non mi è piaciuta questa scelta per quanto poi artisticamente ripeto che siamo di fronte a piccole tante piccole grandi opere d'arte se le prendiamo una ad una potenzialmente sono da incorniciare una dopo l'altra ma ripeto il mio commento è oggettivamente non lo so perché non riesco a essere oggettivo soggettivamente la storia la dimenticherò senza alcun tipo di rimorso ricorderò i disegni ma neanche tanto sono sincero non mi sono per nulla chiesto coinvolgere la storia ha un suo senso la storia proseguirà se promuovere differenti ma questa ambientazione di questa Londra vittoriana fino a 800 si ben argomentata con un basso di manetta che comunque fungono un po' da aiutanti ispettori aiutanti dei due detective non lo so non mi ha per nulla conquistato questo è un mio pensiero personale andando avanti troviamo invece una storia che per quanto sia molto più semplice è in salsa Disney letteralmente ovvero la prima amaca di stabile Marco Stefano Arvota perché amo questo tipo di storie oltre a essere più semplice sicuramente la lettura ripeto alla seconda ma in realtà ripeto Pipo Holmes è una storia un po' atipica per la narrazione per la sceneggiatura quindi non è che capita sempre anzi è molto raro leggere una storia così di livello così complessa e completa ma questa è una storia un po' per tutti per tutti e nessuno perché di fatto verrà dimenticata ma anche qui cosa amo di questa rubrica Peter Paperino che è stabile riesce a trovare un elemento semplice un elemento di routine e farci una storiella ovvero cosa ama Paperino più di ogni altra cosa più di ogni altra persona la sua amaca e per come lo zio ha la sua numero uno anche Paperino ha la sua numero uno però di amaca non di moneta anche se quest'ultima è molto rovinata ma grazie o a causa dei nipoti riuscirà forse a sistemarla o comunque a trovare un compromesso con la sua bella e preziosa amaca una storia che ripeto dimenticherò ma che nella narrazione della scorrevolezza è sicuramente più semplice e più digeribile parliamo di qualcosa di imparagonabile con Pipo Holmes sia chiaro non mi ce voglio accanire è solo per farvi capire il mio pensiero Paperino Paperotto un magico mondo la fattoria l'invasione aliena ancora una volta Icardi giù della torre proseguono questo ciclo di storie che probabilmente andranno avanti ancora per un po' con Paperino Paperotto che ricorda il suo passato Paperino da bambino storie che mi sento un po' superato nel leggere Paperino Paperotto una grande serie di storie grazie a Bruno Enna però questo mix di realtà fantasia la trovo adatto perfettamente ai bambini questa è una storia che si può leggere proiettandola con un narratore con una voce anche a scuola a scuola primaria lo farei volentieri se avessi il pdf insomma se avessi la possibilità di farlo ma l'ho trovata abbastanza noiosa ecco sono sincero per quanto poi i generatori sono molto belli questa è la cosa che l'adulto che con le sinistra guarda la narrazione vabbè non è per me ma d'altro non è giusto che sia così il topolino va da 0 a 99 anni come la tombola mentre qui abbiamo qualcosa che delizia gli occhi di tutti dell'amante del fumetto o dell'amante del libro della tazza della bottiglia del qualsiasi oggetto su questo mondo ovvero Stefano Zanchi che disegna il suo castone e qui c'è poco da dire Zanchi per me il futuro è già il presente ma sarà il futuro quando deciderà di sua volontà di dedicarsi full time al topolino per il momento per sua scelta non lo vuole fare ma è l'erede di Frecero lo ripeterò sempre anche se lui non vuole sentirsi dire questa cosa per me è e se non dovesse esserlo comunque lo rimarrà nel mio cuore lo rimarrebbe andiamo avanti con la parola della settimana questa rubrica di Marco Dixit dedicata un po' alle parole come per esempio quest'ultima Pleistocenico Micragnoso e questa è proprio una parte una vignetta che proprio uscì nella pagina nella pagina della storia di Badino questo fa capire quanto Badino abbia curato l'estico anche utilizzando queste parole che onestamente non si usano andiamo avanti con la grande mitologia greca o meglio papera il volo di Archidedalo barbieri soldati devo fare un grande complimento cosa che probabilmente fece anche in passato ma adesso in maniera convinta a soldati perché questa storia l'ho trovata come probabilmente la sua più importante al disegno non lo conosco l'autore né personalmente né come di fatto autore stesso ma leggendo riguardando un po' le vecchie storie comunque recenti di soldati per me questa è la sua migliore nella realizzazione si vede che è proprio il rasfoaggio con i papri con Archimede con Newton e devo mostrarvi una tavola a parte questa che già è di noto ma un'altra tavola dinamica in movimento per quanto statica quasi come se uscisse dal foglio in cui ora vi racconto i due volano non so se potete capire la magnificenza di questa tavola è spettacolare veramente molto molto bella io amo le splash page ma non per parito preso ma quando sono fatte bene questa è una di quelle wow una delle migliori tavole che abbia mai visto negli ultimi tempi complimenti ai soldati la storia comunque è molto bella perché racconta in maniera leggendaria Icaro ed Edalo impersonificati da Archimede e Newton che andavano riuscire a scappare dal labirinto stesso labirinto in cui Cedestino riuscì a fuggire e vennero rinchiuti in questo labirinto dal dittatore nella cordipietra proprio perché tengono responsabili i due inventori di essere riusciti ad aiutare Teseo a scappare ovviamente ricalcando quella che è la leggenda della mitologia greca la storia ha senso tra l'altro c'è anche un riferimento mitologico che poi ovviamente viene deviato di come in teoria muore Icaro perché nella seconda mitologia muore perché si avvicina troppo al sole volando con questa sua ennesima idea tra l'altro il labirinto è una sua idea ma ovviamente qui non muore il personaggio ma nella mitologia muore a causa del suo volo troppo vicino al sole bella bella storia continuo a non capire il perché anche se c'è una spiegazione di marketing venga ristampata qui sia la storia e poi anche sul proprio mitologia non ha assolutamente senso almeno per me che potevo essere interessato a comprare a quest'album ma così non lo faccio ma non so sicuramente c'è un motivo più alto che non conosco qui appunto ci viene ricordato come è stata in qualche modo ispirata la storia a Dedalo e Icaro ancora una serie di fortezze di bellezze come qui in Portogallo in Germania i castelli sono uno più bello dell'altro l'unico costello che non si può definire bello è ahimè è quello che stiamo comprando ma non possiamo aspettarci tanta cura però ok capiamoci è una battuta ovviamente però c'è un velo di ironia ma anche di verità che spettacolo per esempio Castello della Disney Lego altri prezzi ma in proporzione è un'altra storia 400 euro è chiaro un'altra storia ma quello è un castello su cui investire veramente un ottimo redazionale ecco abbiamo alcuni disegni dedicati a Rockerdack ovvero Mister Bombetta che davvero spero possa avere sempre più storie da protagonista ma non solo da sconfitto perché no anche da vincitore si può far vincere ogni tanto Rockerdack magari in aiuto con lo zio con una setta di mano perché no uscirà di Paperone grande classico e Paper Mitologia e questa è la cover settimana prossima che non mi piace sono sincero così ha impatto potrebbe essere Mastantuono potrebbe essere Intini non lo so ma non mi piace non mi fa impazzire la china soprattutto Malgerentini firmano ripeto la storia contro Poline Pippo e questo Poppi vedremo chi sarà continua Faraci Faccini con il messaggio di Paperino la corona di Tirman in due episodi di tre non so perché questa è una scelta di mettere due ma non il terzo non è mai successo penso di Area 15 con De Feo Pastrovicchio per Paperino e l'ordine estremo di Knut Nerum e Arith Milton sicuramente avremo per una relazione dedicata agli autori spero perché non so chi sia il primo per esempio e poi ancora una volta ormai sono veramente stufo di leggere il nome di Battista sul finale questo è un volume che prenderò ma non adesso dopo un po' di corallo non c'è fretta dubito che andrà esaurito anche se è di casti ma prima o poi lo avrò che dire un album che promuovo a pieni voti 8, 8 e mezzo la storia di People Holmes lo voglio ripetere e ribadire oggettivamente una grande storia un grande impegno sicuramente un grande azzardo perché comunque andare a realizzare un personaggio da zero ex novo non è per nulla facile ma quel dettaglio un po' la sceneggiatura e un po' la scelta di stile sul passato di quel personaggio mi ha un po' deluso ecco poi ripeto perché sono troppo inclusivo non lo so perché penso agli altri ma se devo pensare alla totalità alla collettività per me si poteva evitare quel modo di sceneggiare e di disegnare il passato del personaggio ci ho detto vi ringrazio vi saluto alla prossima ciao ciao